LUCA GUTO PLAYER Buongiorno a tutti raga Io sono Stickets e oggi siamo qua Ad aprire la bustina premium oro In realtà questa bustina l'avevo già acquistata ieri Quindi il video volendo potevo portarvelo ieri Però ho detto vabbè facciamo uscire il video Che mi sembrava un pochino più bello Quindi ho detto questo qua lo porta anche un po' in ritardo Oltre a questo aprirò anche un blister di 5 pacchetti Primo tempo raga quindi state attenti fino alla fine E io potrei trovare qualcosa di raro Prima di cominciare con il video vi lasciate un bel like e supporto E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Vi ricordo di attivare la campanellina E di farmi sapere se siete riusciti a commentare tra i pv5 Che a me fa sempre molto piacere Vi ricordo soprattutto l'hashtag salutami Se volete essere salutati nel prossimo video O dopo ancora alla fine del video Come sempre saluterò qualcuno Detto questo incrociamo subito a spacchettare Andiamo con l'apertura BAM Spaccando giù tutto Sì La bustina costa 10 euro Quindi un pezzo abbordabile E all'interno sappiamo già cosa troviamo Troviamo una limited edition Sei card base E tre card limited edition che già conosciamo Che servono assolutamente per completare la collezione Che sono Ronaldo, Mikis Savic e Donnarumma In più troviamo un'altra card Che io colleziono Ma non è da collezione Una card online premio oro Io la tengo sempre per collezionare comunque Che serve per il gioco online Quindi ora la togliamo da qua Madonna fatto un disastro Andiamo ad aprirla subito Come vi ho detto all'interno Abbiamo un altro pacchetto Che però abbiamo già tutto quello che c'è dentro qua Perché abbiamo tutte le limite che ho già trovato In uno scorso spacchettamento Le tre figurine che ci importano Le tre card che ci importano Sono questa card qua Che però non vale per nella collezione Qua dicono solo nel gioco online E poi abbiamo Cristiano Ronaldo Premium oro limited edition I Likovic Savic premium oro limited edition E Gianluigi Donnarumma premium oro limited edition Alla fine raga Questi dieci euro servono per queste tre card Non c'è nulla da fare Ora andiamo ad aprire anche la bustina premium Da cinque euro Vediamo chi troviamo Magari troviamo qualcuno che mi serve Però però Lukaku top player Sì sì Andiamo Mi mancava Sì Boom bitch Get out the way Boom boom bitch Get out the way E poi carboni e diamante Raga finalmente Voi mi mancano solo Immobile e il Papu Ho completato tutti i top player Ora andiamo ad aprire Molto velocemente questo blister Di primo tempo Sperate di trovare a questo punto Immobile Di trovare questi cinque pacchetti Perché mi manca solo lui Dal primo tempo Primo pack Vediamo chi troviamo Vediamo Vediamo Dai Abbiamo Radu Che non ci serve Siru Nel Torino Hakimi Buona però Già ce l'abbiamo Igor Poi passiamo alle rare Che sono Cutrone e diamante E Cutrone e super combo Raga Doppietta di Cutrone E doppietta di Cutrone Non si vede neanche in campionato Però noi la troviamo Andiamo col pacchetto successivo E abbiamo Juan Musso Poi Pollirola Quanta Fiorentina ragazzi Felipe Caicedo Il Panterone Lars è l'idolo Poi abbiamo Tra rare abbiamo questo pacchetto Miku Cisavic Stella E Guantodoro Salvatore Sirgu Terzo pack Ragazzi Vediamo chi troviamo Però sul contentatore Lukaku Limited Che pacchetto Questo qua da 10 euro ragazzi Che pacchetto Allora Lucas Leo Lianco Che non ci serve Bastos Complimenti alla Lazio Che ieri ha vinto Udoje Che già ce l'abbiamo Dronkowski E Luis Alberto Assistman Per ultimo pack E poi passiamo I saluti Passiamo subito All'erare Abbiamo Delict Difensore insuperabile Magnanelli E poi abbiamo Izzo Pezzella Vera E poi l'ultimo Che andreva Che qua era All'Inter Ultimo pack Ragazzi E poi passiamo Del tente Ai saluti Come ho già detto E ripetuto Abbiamo Lasagna Bombe Però Già completata Questa pace Cutrone Bombe Raga Quanti cutrone Ragazzi Bastoni Giovanni Mattia Perin E Silvestri Raga Detto questo Passiamo Del tente Ai saluti Con questa bellissima card Di Romero Lukaku Voglio salutare Davide Antonio Giren DLA Genesi Legacy Francesco Michael XW Gambraz Maria Pro Gamer Trattino Basso 916 Gabriele Vincenzo Trattino Basso Fortnite Mattia Donato Domenico Issa José Angraf Undici E Sergio Gamer Raga Detto questo Vi lascio Il prossimo Video Ciao 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 Ciao